Si veda la realizzazione delle nostre scatole fatte su misura. Poiché le nostre cornici sono realizzate con dimensioni sempre diverse, è necessario creare delle scatole personalizzate. Specificamente vediamo nel video l'operatrice proteggere gli angoli della scatola con un ulteriore strato di cartone ondulato. Esso consentirà una protezione maggiore molto conveniente durante gli spostamenti con i corrieri. Usiamo del cartone bianco ondulato di spessore 5 mm. Questo tipo di scatola può essere spedita in sicurezza. Si tratta cioè di una scatola leggera ma al contempo resistente. Si rivela inoltre essere vantaggiosa per le spedizioni extra europee perché trattandosi di un involucro di cartone non è necessario presentare particolari documenti al fine dell'opportunamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.